Buongiorno Davido, benvenuti a un nuovo episodio del vostro podcast di tech news preferito. Oggi volevo parlare del Google Cloud Next, mega conferenza, fiera, esibizione di prodotti Google che c'è stato a Las Vegas fino a ieri, quindi ci sono tante cose da dire, tanti prodotti da annunciare, tanti annunci da vedere e quindi direi bando alle ciance e andiamo subito con la puntata di oggi. È il 12 aprile, Google Cloud Next si è interrotto ieri, cioè è terminato ieri, non è che si è interrotto bruscamente, è finito ieri, erano tre giorni di annunci di vari prodotti legati a Google Cloud, a tutta la loro suite di prodotti in cloud, naturalmente AI protagonista assoluta dei palchi, ma prima di vedere un po' di roba di AI, vediamo una cosa che ha a che fare un po' meno con l'AI, anche se ce l'hanno buttata dentro lo stesso, che è una nuova app per Workspace, in realtà per creare delle presentazioni. Avete presente le presentazioni che si fanno con slides, eccetera? Beh, hanno presentato una app, una app web naturalmente, nella suite Workspace, che permette di creare delle presentazioni video, però, che in qualche modo dovrebbero essere un pochino diverse, più divertenti, più ingaggianti delle classiche slide, ma vediamo un po'. Questa app si chiama Viz e sono qua su un articolo di The Verge che ci dice che aiuterà le compagnie e gli utenti a creare dei video collaborativi, naturalmente condivisibili, perché Google Viz mantiene la caratteristica di slides e degli altri prodotti di Workspace, cioè il fatto che se voi condividete con qualcuno quella presentazione o quel prodotto, poi questo qualcuno può anche andare a intervenire, modificare, aggiungere commenti, suggerire modifiche, eccetera. Quindi Google Viz non è un'app per creare dei video meravigliosi, non è un'app, non è Da Vinci, non è Adobe Premiere, no. È un'app che punta esplicitamente alle cose che bisogna fare per lavoro, quindi creare un pitch, fare un update al team, spiegare un concetto complesso, e insomma, come dice Cristina Baer, che è la Google's VP of Product Management for the Workspace Collaboration Apps, quindi insomma una VP di Google, e l'obiettivo di questa app è rendere tutto molto facile, molto semplice, quindi dice se puoi creare una slide, puoi anche creare un video con Viz. Questa è la promessa. Ci dice The Verge che, in base a quello che hanno visto e hanno provato su Viz finora, sembra praticamente che tu puoi trasformare quello che facevi con Google Slides in un video, cioè puoi creare un video. Quindi puoi prendere degli elementi, degli asset dalla tua cartella di drive, oppure da altre parti, assemblarle tutte in un ordine prestabilito, e invece di avere le colonne, insomma, con le varie slide di Google Slides, tu praticamente ti ritrovi con una timeline. Tu hai una timeline e a quel punto puoi editare questa timeline, e puoi aggiungere te stesso in un riquadrino, insomma, puoi editarti all'interno di questa timeline, oppure, a parte che è un riquadrino come sto facendo io qua adesso, ma anche inserire un tuo frame all'interno di questa timeline, e quindi fare le tue spiegazioni, quindi fare un minimo di editing, ecco. Naturalmente, ecco qua che ci infilano anche le AI, perché tutto questo lo potete fare da soli, dall'interfaccia, oppure chiedere di farlo a Google Gemini, o Gemini, Gemini AI, per creare un primo draft del video, insomma, che poi potete editare. Gemini può creare una storyboard, può scrivere uno script, può leggere lo script che gli date, può anche leggerlo proprio con la voce, può creare un text to speech, quindi può leggere quello che voi gli date, e poi naturalmente può creare immagini che poi si possono usare nel video. Inoltre c'è tutta una libreria di video e immagini e audio stock che gli utenti possono prendere e aggiungere, buttare dentro in questo video. Naturalmente poi ci sono le feature collaborative che dicevamo, quindi quando voi shareate il video con altri editor, questi possono entrare e fare le loro modifiche. Naturalmente il vantaggio che ha Google con Viz rispetto a altre app di generazione video online è che Google può integrare questa roba con tutta l'altra suite di Workspace, con tutti gli altri tool. Naturalmente questo è un grosso vantaggio, anche perché Workspace è già abbastanza utilizzato nell'azienda, quindi integrare anche Viz potrebbe essere molto più semplice, è un grosso vantaggio per Google. Comunque Viz uscirà in public beta quest'estate, questo è il primo annuncio che volevo dare per quanto riguarda Cloud Next. E ora invece guardiamo AI, perché naturalmente AI è il grande protagonista, Gemini grande protagonista con l'annuncio della nuova versione Gemini 1.5 Pro che adesso può anche sentire. Può sentire, infatti può ascoltare dei file audio che gli date in pasto come upload e da questi può prendere le informazioni come se fossero un prompt. Non solo audio, anche video, naturalmente video che contengono audio, quindi può ascoltare i video senza invece che prima dobbiate trascrivere quei video e passargli il transcribe. No, può direttamente ascoltare. Google ha detto che Gemini 1.5 Pro sarà disponibile al pubblico attraverso la piattaforma di generazione di applicazioni AI che si chiama Vertex AI. Gemini Pro, questa nuova versione, dovrebbe essere la versione di mezzo, no? Vi ricordate i vari tier di Gemini con Gemini, Gemini Pro e Gemini Ultra. In realtà la versione 1.5 di Gemini Pro è già più potente della versione, diciamo, vecchia di Gemini Ultra per quanto riguarda le performance, quindi dovremo aspettare anche un update a Gemini Ultra. Gemini 1.5 Pro può capire istruzioni complesse e eliminare poi il bisogno di fare file tuning, insomma, quello che sappiamo, RAG, eccetera. Gemini 1.5 Pro non è l'unico modello AI che ha beneficiato di un update al Next. C'è anche Imagen o Imaging, Imaging 2, che è il modello di generazione di immagini di Google, concorrente di Dali, per capirci, e che aggiungerà delle altre feature, come per esempio Impainting e Outpainting, quindi la possibilità di editare pezzi dell'immagine, eliminare pezzi, aggiungere pezzi, insomma, all'interno di un'immagine, e inoltre rende disponibile alla feature Synth ID, che praticamente è un watermarking, quindi Google può aggiungere un piccolo watermark all'immagine che non è visibile dall'utente, ma è visibile dalle macchine, che invece vanno a capire se quell'immagine è stata generata da un AI o no. Quindi è proprio watermarking per distinguere l'immagine generata dall'AI di quelle invece generate a mano. E sempre rimanendo in tema AI, ci sono notizie incoraggianti per quanto riguarda l'AI open source, sempre di Google. Sono qua su It's Foss, che ci dice che ha visto delle cose carine, perché dopo aver reso open source magica qualche mese fa, che è un tool sempre powered by AI, ma si concentra sulla cyber security, Google non si è fermata qua e ha fatto delle altre release di prodotti AI, come open source. Si inizia con Max Diffusion, che è una collezione di implementazioni reference di vari diffusion model, che è stata scritta in Python e Jax, che è pensata naturalmente per funzionare sulle TPU di Google Cloud, ma anche sulle GPU, e supporta Stable Diffusion 2, base, poi 2.1 e XL. Poi c'è il supporto a nuovi modelli in Max Text, che è il loro LLM Jax scalabile. Adesso ha il supporto per Gemma, per GPT-3, Lama 2 e Mistral. E inoltre c'è un nuovo inference engine LLM, che si chiama Jetstream, che è stato introdotto come un engine ottimizzato per l'inferenza LLM sui device XLA, come per esempio GPU e TPU. E alla fine abbiamo anche Optimum TPU, che aveva in lavorazione da un po' di tempo assieme a Hugging Face, che è un pacchetto ottimizzato per PyTorch, che è per gli utenti che intendono allenare, trainare i loro modelli su Hugging Face e sulle TPU. Tutte queste cose che vi ho detto sono tutte rilasciate su GitHub, con licenza abbastanza permissiva, ho guardato qualcuna alla Apache License. Quindi insomma, almeno su questo, Google sta facendo un lavoro di open sourcing dell'AI reale, concreto. Quindi questo potrebbe essere un segnale per tutte le altre compagnie che invece non stanno esattamente seguendo la strada dell'open, nonostante magari abbiano l'open nel nome. E poi ci dirigiamo sull'hardware, perché Google ha presentato anche dell'hardware. Google sta, diciamo, joinando il trend dei data center, degli hyperscaler, di costruirsi in casa le proprie CPU. E infatti, grazie ai design di ARM, insomma ai chip di ARM, Google Cloud ha rilasciato, ha presentato i propri custom chip basati su ARM. Si chiamano Axion, Google Axion Processor. Sono CPU ARM-based, proprio creati da Google per i suoi data center, e saranno naturalmente industry leading, performance, energy efficiency, eccetera. Insomma, naturalmente, questo è tutto il pacchetto della presentazione di questi prodotti. È la prima volta che Google crea una propria CPU, anche se aveva già creato naturalmente le sue TPU, gli acceleratori di AI, però la CPU è la prima volta e dice naturalmente che le performance sono il 50% migliori, l'energy efficiency è il 60% migliori, insomma, rispetto alle architetture x86. Axion è basato su ARM Neoverse V2, quindi questa architettura ARM, di cui abbiamo già parlato parecchie volte in passato, nuova, molto più veloce, molto più efficiente delle altre Neoverse, e include un microcontroller custom che si chiama Titanium, creato proprio da Google, che invece serve per gestire il networking, la security e lo storage I.O. Leggo qualcos'altro su Axion da The Verge. Scopriamo che Axion, per esempio, sta già dando la sua potenza, il suo servizio a YouTube Ads, a Google Art e anche a altri servizi di Google. Google dice che gli utenti saranno in grado di utilizzare le Axion CPU in servizi come GCE, GKE, Dataproc, Dataflow, Cloudbatch e altri. Ecco, intanto per chi sta guardando c'è anche l'immaginetta per vedere com'è fatto da fuori, dall'alto, questa CPU custom ARM di Google. Inoltre, Google sta anche aggiornando i propri AI chip TPU, che sono delle alternative alla GPU di Nvidia, naturalmente per i task di AI Acceleration. La TPU, le TPU V5P, sono nuovi acceleratori, insomma, un singolo pod TPU V5P contiene 8.960 chip, che è più del doppio della quantità di chip trovati in TPU V4. Questo annuncio di Google naturalmente si inserisce, come dicevo, nell'ondata di Hyperscaler che annunciano i propri custom chip Microsoft che aveva già fatto qualche mese fa. Naturalmente anche Amazon ha i propri chip Graviton, quindi Google entra in questo mercato. E questo naturalmente è molto utile a questi big tech, perché così riducono la propria dipendenza da Nvidia, che è il fornitore principale di chip per le AI, quindi riuscendo a costruirseli in casa, hanno meno bisogno di comprarli da Nvidia stessa. E come commento al Google Cloud Next da parte di The Register, trovo che c'è un commento alla dichiarazione di Sundar Pichai, naturalmente CEO di Google, sulla crescita proprio del fatturato, delle revenue globali di Google Cloud, proprio della divisione Cloud, che è arrivata a 36 miliardi lo scorso anno, che è più di 5 volte quello che era 5 anni fa, quindi c'è stata una crescita. Anche se questo è ancora soltanto un terzo circa delle revenue annuali generate da AWS e da Microsoft Azure, però comunque è una crescita che si sta facendo concreta, si sta vedendo, quindi è una rincorsa che sta continuando. E, ha detto Sundar Pichai, vuole mettere in luce alcune delle ragioni principali per cui Google Cloud sta vedendo questo progresso. Il primo, naturalmente, è il corposo investimento nell'AI. sa che l'AI sta trasformando qualunque industria e quindi essere lì, al primo posto, pronti a fornire workload con l'AI è naturalmente motivo di crescita totale per Google Cloud. E a questo proposito parla di come Google AI possa leggere 100.000 righe di codici in due minuti per trovare e fixare dei bug. L'ha detto proprio nel video introduttivo. Spoiler, ci sono ancora i bug nel codice, non sono stati eliminati da Google Cloud. e dice anche di come l'AI rende la vita migliore sia alle persone che poi ai professionisti, ai lavoratori. Naturalmente, sottolinea The Register, ci tocca sottolinearlo perché bisogna sempre guardare anche il lato oscuro della forza che l'AI, naturalmente, non porta soltanto benefici all'umanità ma anche tanti lati negativi che spesso, che la totalità delle volte in cui vediamo queste presentazioni non sono menzionati. Parlo di disinformazione, di allucinazioni, di enormi quantità di risorse utilizzate come energia, acqua, naturalmente per il raffreddamento oltre naturalmente ai problemi di protezione della proprietà intellettuale con l'uso indiscriminato di materiale protetto da copyright e creato da altri senza ottenere il loro permesso e senza pagarli. Ecco, oltre ad altri problemi come i bias che abbiamo visto in questi ultimi mesi. Quindi, anche i problemini sarebbe il caso di evidenziarli ogni tanto. Come per esempio, uno dei problemini è stato quantomeno indirizzato e Google ha detto che cercherà di rendere tutti questi modelli meno fallibili. E come fa a rendere meno fallibili un modello che per definizione è fallibile perché si basa su statistica? Ecco, lo farà dandogli in pasto magari come rag o come fine tuning i risultati di ricerca di Google Search. Quindi quando voi fate una domanda al modello il modello, prima di rispondere cercherà su Google Search per capire se la risposta che vuole dare è corretta o no. Il problemino ci fa notare The Register è che Google Search è un macello di spam, scam e affiliate marketing. Quindi, insomma, non credo che sia esattamente il modo migliore per andare a verificare che un'informazione è o no corretta. Infine, vi do quest'ultima notizia. Google ha creato GDC, Google Distributed Cloud, che praticamente è un Google Cloud on-premise proprio per l'AI. Cioè, vi vengono in pratica a certificare i datacenter e a configurare correttamente con l'hardware, il software, e poi con una console, una dashboard. Questo è quello che ho capito io, eh. Vi danno una dashboard in mano in modo da poter gestire il vostro datacenter come gestireste il cloud, il datacenter in cloud. Quindi avete il vostro datacenter Google Distributed Cloud, quindi GDC, all'interno di GCP, Google Cloud Platform, e lo gestite così comodamente come fareste in cloud. Solo che è on-premise, quindi per allenare gli LM oppure per utilizzarli con i vostri dati privati dell'azienda, stiamo parlando di grandi enterprise, naturalmente, non dovete poi mandarli ai server di Google, ma possono rimanere in casa, nella comodità del vostro salotto, con appunto GDC, che potete slegare completamente, staccare completamente dal cloud, da Google Cloud, proprio per eliminare il passaggio di dati. Però potete anche, volendo, accendere dei bridge, dei collegamenti a qualche workload GCP su cloud, in modo che magari potete utilizzare completamente il vostro datacenter, ma per alcune cose collegare anche un prodotto, un workload, insomma qualcosa online in cloud, proprio su GCP. Quindi c'è un'integrazione totale tra GCP e GDC, questa Google Distributed Cloud, e basta, potete insomma avere questo tipo di configurazione, con questo nuovo prodotto, quindi gestire il tutto, con la semplicità, a cui gli clienti Google sono già abituati dalla console, dalla dashboard di Google Cloud, ma on-premises appunto con GDC. Vi dico anche che ci sono già dei vendor certificati, ecco, Google Cloud Ready Distributed Cloud, questo è il badge che viene dato per chi ha questa infrastruttura, ecco certificata GDC, e questi vendor sono Canonical, CIQ, Elastic, MongoDB, Palo Alto Networks, e Starbust, e ce ne sono anche altri che stanno arrivando, insomma, che avranno questo tipo di datacenter certificato, GDC. Questo è il nuovo prodotto. Ecco, l'ultima cosa che volevo dirvi, che arriva da Google Cloud Next, questo è un po' un sunto di quello che ho visto di delle cose più interessanti, ecco, viste a Las Vegas. Come seconda notizia, visto che facciamo una monografica a Google, vi volevo dare questa news, che in realtà risale a qualche giorno fa, l'è il 2 aprile, che parla di una vittoria nel campo della privacy e contro Google Chrome, di una serie di utenti, insomma, di una class action, che aveva chiesto a Google di, intanto, di cancellare tutti i dati che aveva raccolto nella incognito mode di Chrome, e poi anche, naturalmente, delle compensazioni economiche. Ebbene, ora è arrivato un accordo e Google ha accettato di cancellare miliardi di record degli utenti che sono stati proprio collezionati da 136 milioni di Google Chrome, di utenti Google Chrome, negli Stati Uniti. Parte, appunto, di questo accordo, dopo questa class action. La class action era partita a giugno 2020 contro Google, perché gli utenti avevano detto che Google non faceva abbastanza disclosure di come i dati degli utenti venivano utilizzati in incognito mode. Se vi ricordate, ne avevamo parlato proprio qua al buongiorno. Google si era opposta, insomma, aveva fatto appello, diceva che non è corretto, perché in realtà gli utenti dovevano essere consapevoli del fatto che nella navigazione in incognito comunque i dati venivano presi e letti da Google. Gli utenti però sostenevano che non fosse così. La corte, in realtà, si è espressa a favore della class action e Google, appunto, ha accettato di cancellare tutti i dati degli utenti di questa class action che aveva salvato nella modalità incognito. e poi ha accettato di spiegare meglio agli utenti come trattano i propri dati durante la navigazione in incognito, oltre a cancellare dei dati, insomma, i dati salvati più vecchi di qualche mese e implementare alcune misure per ridurre il numero di informazioni catturate durante queste sessioni in futuro. Quindi si spera, insomma, che nel prossimo futuro i dati prelevati dalla navigazione in incognito da Google saranno di meno, saranno meglio esplicitati agli utenti come vengono raccolti e quanto vengono ottenuti, insomma, che sentenze di questo tipo, anzi meglio, conclusioni e accordi di questo tipo portino Google a spiegare un po' meglio come utilizza i nostri dati e a rendere gli utenti anche un pochino più consapevoli che la modalità in incognito non è una modalità che si fa all'oscuro dai server di Google, ma si fa soltanto all'oscuro dal, probabilmente, vicino di casa che vi osserva dalla finestra e viene a consultare la history della vostra navigazione. Due link veloci sempre per restare in tema Google. Vi consiglio The V8 Sandbox. È un blog post tecnico che vi spiega come funziona la Sandbox in V8, appunto, che è il JavaScript Engine di Chrome e di Chromium e vi spiega Sandbox che è un meccanismo per praticamente isolare la memoria, l'IP di memoria dei processi JavaScript su V8 in modo da evitare che è una corruzione di memoria da un processo finisca per leggere la memoria di un altro processo e quindi causare un grosso problema di sicurezza. Quindi si parla di memory safety, qui c'è tutto questo blog post tecnico che vi spiega le tecniche, come funzionano, eccetera. È una... La V8 Sandbox è un qualcosa già stable, insomma, inserito in V8, quindi vi consiglio, insomma, se volete leggere qualcosa di tecnico oggi di andare a vedere l'implementazione di Sandbox in V8. E l'ultima cosa, sempre, naturalmente, rimanendo in tema Google, la presentazione di jpeg.ly, o jpeg.ly, o jpeg.ly, non lo so. Si scrive jpeg.ly, l-li tutto attaccato, piccolino, ed è una nuova coding library di jpeg, appunto, di un'implementazione di jpeg per fare, per creare, generare immagini jpeg compresse, quindi naturalmente con una grande efficienza. Alcune cose derivano da jpeg XL o XL, non so cosa parlare oggi, insomma, jpeg XL e, insomma, è una nuova libreria inserita in Chrome che permette di generare immagini jpeg, di leggere immagini jpeg con un'efficienza maggiore. È open source, quindi naturalmente la trovate su Google open source blog, quindi, Introducing jpeg.ly, a new jpeg coding library, vi lascio anche questo link se volete approfondire questa ulteriore libreria. Era tutto, grazie per avermi seguito anche oggi, io vi auguro un buon weekend, spero che questa puntata monograficona su Google vi sia piaciuta e noi ci vediamo probabilmente a una prossima puntata la prossima settimana. Ciao!